Io ci tenevo a ringraziare tutte le persone che ci stanno supportando, associazioni, servizie e soprattutto il pubblico. Vorrei salutare gli servizi di Salerno, provincia, che stanno felicemente a casa, siamo divertiti, alla faccia ostra, siamo in un zacco di gente e continuate così. Intanto, niente, speriamo che prima o poi qualcuno si svegli anche da queste parti qua. E ci vediamo la prossima volta. Ma sicuramente anche senza di loro e senza gli altri, voglio dire. Grazie, grazie, grazie.